Un evento straordinario capace di richiamare tantissime persone che pur non potendo partecipare in presenza hanno seguito da casa sui canali social. Grande successo per il concerto di Natale promosso dal Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. L'orchestra filarmonica guidata dal maestro Daniel Loren ha eseguito un repertorio classico ed intramontabile. I canti della tradizione e tanta emozione tra coro e filarmonica che hanno fatto compagnia ai salernitani in queste festività natalizie e da cornice a giorni di festa diversi dal solito per via della pandemia. Un ricco cartellone di eventi in musica, quello promosso dal Teatro Salernitano iniziato nel giorno dell'Immacolata e che andrà avanti fino a Capodanno con il consueto concerto che chiude questi 12 mesi e che sarà diretto sempre dal maestro Daniel Loren ed eseguito dall'orchestra filarmonica del Verdi. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.